Ciao Cate, ciao a tutti, abbiamo un messaggio speciale per Caterina La Befana ha detto che più o meno verso mezzogiorno ci sarà una consegna speciale per te Scusa in ritardo, ma ci dispiace la Befana, purtroppo è arrivata in ritardo, però arriva Ciao a tutti, saluta mamma, vuoi salutare? No? Va bene, ciao ciao